Sembri Pamela Anderson. Loredana Lecciso in bikini, fa impazzire i fallover La compagna di Albano Carrisi ha postato una fotografia, che ha veramente colpito gli ammiratori. Davvero molto affascinante Loredana Lecciso, come è risaputo, è la compagna di Albano, il famoso cantautore pugliese. Dopo la lunga storia d'amore con Romina Pover, infatti, ha scelto lei Ormai, tra l'altro, sono più di vent'anni, che stanno insieme, e il frutto del loro amore sono stati Jasmine e Albano Junior A un certo punto, inoltre, si è anche interessata alla televisione, iniziando a presenziare in alcuni programmi. Ricordiamo, a tal proposito, per esempio la fattoria, in qualità di concorrente Poi, ancora è stata ospite a Domenica Inn, Buona Domenica, La Vita Indiretta, Domenica Live. Per di più, circa dieci anni fa, ha anche fatto parte del cast dell'Isola dei Famosi Insomma, diciamo che ha cercato di mettersi in mostra, e di farsi conoscere non soltanto per essere la donna che ha intrecciato una love story con Albano Al momento, poi, ha anche un profilo Instagram davvero molto seguito, se si pensa, che sono quasi 200.000 i follower che popolano la pagina ufficiale Le curve da capogiro di Loredana Dal canto suo, quindi, Loredana si diverte anche a condividere vari momenti della sua giornata con gli ammiratori E, per la verità, anche il suo tenerissimo cagnolino che ogni tanto mostra agli utenti del web Inoltre, nel suo profilo, ultimamente compaiano anche i suoi figli, e altri parenti e amici Non mancano però, se vogliamo, nemmeno le fotografie più ammicanti Anzi, Loredana, a dire il vero, si può dire che abbia un fisico da fare invidia anche alle donne più giovani, e che qualche volta decide, anche di sfoggiarlo sui social network Questo è il caso di uno scatto che ha pubblicato qualche tempo fa, e che ha suscitato veramente molti commenti e anche tanti like In quell'occasione, quindi, Loredana si trova nello splendido mare del Salento, come lei ha riferito nella didascalia E i fans, al proposito, si sono soffermati maggiormente sulle sue curve provocanti che lasciano a bocca aperta la parterre maschile